Eccoci qua con Derisi Silvia a commentare la prima partita stagionale, vittoria di 1-0 nonostante le numerose occasioni. Un commento alla partita? Allora, partita un po' difficile, un po' tirata, secondo me da entrambe le squadre, un po' di confusione, poca lucidità, del resto è la prima partita, quindi insomma può solo migliorare. Ok, il gol è arrivato nel finale, nonostante una rosa abbastanza corta, potrebbe essere alla lunga un problema? Sì, quest'anno siamo veramente contate, abbiamo deciso comunque di iscriverci, di cominciare, di dare il massimo, siamo in poche e per questo daremo il 200% con tutte le capacità che abbiamo. L'anno scorso vi siete salvati abbastanza tranquillamente, quest'anno volete provare qualcosa di più importante? Allora, l'obiettivo sarebbe quello, partendo con meno ragazzi ovviamente è più difficile, speravamo in un inizio diverso, però vedremo quel che succederà, faremo il possibile. Ok.